e ci siamo bentornati a tutti buon lunedì 22 gennaio ragazzi ragazzi in un altro appuntamento oggi ci siamo svegliati con un po di rosso per quanto riguarda il settore delle cripto lute abbiamo un bitcoin ancora molto debole 41.056 dollari delle alcoins anche loro molto in rosso la dominanza che continua a andare sideways quindi crea abbastanza confusione adesso nelle menti degli investitori stessi investitori che discutono parecchio sull'etf praticamente su ex non si fa altro infatti ho preso una pausa da ex perché non riesco più a entrare l'unica cosa che vedo sono etf avevamo detto questo avevamo fatto questo gbtc sta dampando no non è vero non sta dampando gbtc perché li stanno convertendo in altre etf che costano meno e allora il prezzo viene bilanciato insomma c'è un bel casotto in questo momento io oggi voglio cercare di farvela più semplice possibile come la vedo io e come agisco io personalmente voi già sapete che io ho scaricato delle posizioni appunto a 48 mila dollari avevo fatto 42 45 intorno ai 48 48 e 5 e vi avevo spiegato il perché le avevo scaricate vi avevo detto che è siccome il grafico di sei mesi arrivava in questa maniera sul ritracciamento ormai che avevamo fatto durante l'anno dello 0 61 fibonacci spaccato ho detto sì c'è ancora la possibilità di poter lateralizzare dentro questo pattern prima di vedere nuovi massimi quindi non volevo trovarmi incastrato non volevo neanche un minimo di possibilità di trovarmi incastrato dentro un pattern di equilibrio dei sei mesi come quello che avevamo avuto in precedenza qua ok perché qua avevamo fatto più o meno la stessa cosa se vedete in passato qua vedete che abbiamo avuto il lower high higher low e poi siamo saliti in nuovi massimi quindi potremmo andare a cercare un lower high comparato a questo è solamente una piccola una piccola probabilità che questo succeda attenzione non è che deve succedere io mi baso sulla probabilità che potrebbe succedere e quindi ho bisogno di liquidità basta quindi tanto quanto 2 più 2 fa 4 se può succedere questa cosa uguale io ho bisogno di liquidità e quindi me la sono presa me la sono presa e ho pensato quante possibilità poi ci sono che effettivamente possiamo vedere prezzi sotto i 42 mila dollari quando io ho fatto il primo track profit era 42 mila dollari ci sono tante possibilità che possa succedere e quindi queste due cose per me sono state sufficienti per dire potremmo andare in equilibrio dei sei mesi potremmo rivedere prezzi sotto i 42 mila dollari perché non prendere un po di liquidità l'ho fatto ho delle posizioni comunque che corrono la maggioranza delle posizioni che corrono verso l'all time high ad ogni modo sul settimanale in questo momento abbiamo appena iniziato la consolidazione settimanale ma attenzione attenzione perché qui abbiamo la 12 e ma che fa da supporto e lo ha fatto praticamente da ottobre questo supporto quindi la mia prima diciamo red flag che potrei proprio considerare sarebbe il buco di questa 12 e ma se buchiamo questa 12 e ma allora non mi farebbe impazzire a livello di price action perché poi entreremmo veramente una consolidazione settimanale un po più aggressiva finché rimaniamo però sopra lo 038 fibonacci e vado a prendervi questo lo non vi vado a prendere questo che è troppo piccolo sotto lo 038 fibonacci finché rimaniamo sopra questo pattern è ancora sano e può avere ancora la sua continuazione tranquillamente per questo vi dico che c'è un po di confusione nell'aria c'è un po di confusione nell'aria perché adesso se andate sul giornaliero vedrete che bitcoin continua a fare un po su un po giù generalmente ha crociato 12 26 ma la dominanza continua a andare sideways capite quindi la dominanza non sta salendo verso bitcoin questa e ripeto è l'unica cosa positiva che vedo perché la dominanza che non sta salendo verso bitcoin anzi sta quasi per printarci una bear flag di continuazione a ribasso significa che ancora gli investitori sono propensi al rischio sotto un certo punto di vista perché sono propensi a rimanere sulle al coins quindi non sono ancora pronti a ritornare in bitcoin completamente quindi la dominanza potrebbe alzarsi se bitcoin continua a salire o potrebbe alzarsi se realmente dampa tutto e non ci sono molte speranze per le al coins in quel caso di continuazione ma se questa continua a scendere significa che la propensione al rischio ancora c'è ok ragazzi quindi questa era un po una panoramica poi comunque abbiamo anche l'azionario che procede abbastanza bene ancora oggi giappone sta andando alla grande per via di tutte i microchip ai tutto quello che sta succedendo tra poco arriva anche apple vision pro quindi sarà una settimana interessante anche per invidia e microchip e gli utili insomma tante cose sull'azionario che si mantiene generalmente forte a parte la hong kong e la cina che hanno ottenuto i tassi invariati tutto sommato questo è quello che abbiamo l'azionario ancora forte la questione dei tassi di interesse è ancora mista ma ci sarà un taglio dei tassi e questo sicuramente fa aumentare un po le possibilità e quella è un'altra cosa che ha fatto scendere bitcoin secondo me perché molti della feds sono usciti fuori funzionali dicendo che i tassi non verranno tagliati come pensate e oro e bitcoin non hanno reagito benissimo a questa cosa il dollaro è un po salito quindi oltre a gbtc che sta dampando ci sono anche altre cose da considerare vi ricordo ragazzi l'offerta di buy bit sempre e comunque ve la lascio in descrizione come tutto il resto vi lascio in descrizione se depositate 100 dollari riceverete 25 dollari di bonus se fate che voi si avete ancora 9 giorni di tempo vi lascio anche il gruppo telegram vi lascio le applicazioni vi lascio tutto in descrizione del video tutti i video tutorial andatevi a vedere e seguiteci iscrivetevi al canale arriviamo almeno mille like non ci arriviamo mai però ci provo sempre a chiedervelo andiamo avanti andiamo a vedere un po la panoramica delle halcones di oggi perché qui abbiamo appunto più losers che winner nella giornata di oggi come potete vedere abbiamo cartesi più 30 per cento hondo finance 24 manta network 16 per cento dopo il lancio che si sta riprendendo e così via sui top 10 tutto il rosso top 50 tutto il rosso praticamente tranne c'è il link stext ethereum i vari settori come vedete sono abbastanza in rosso possiamo andare a vedere magari e ai che forse ha qualcosa che sta salendo ma poco poca roba poca roba quindi tutti i settori comunque qua sono in rosso ma forse i di fa è un pochettino un po più verde brc 20 per il resto lo stock sta andando bene e come ho detto hong kong e cina sono rosso giappone però è in verde mentre per le commodities tutto in rosso quindi questa è un po una panoramica generale che potete usare l'applicazione scaricarla e come vedete qui e troverete anche voi tutti i giorni tutto quanto andiamo avanti perché dobbiamo parlare un po di quello che sta succedendo qui nella fine nuovi tf bitcoin hanno raccolto quasi 95 mila bitcoin i newborn nine come li chiama il nostro balcunas hanno tirato su 95 mila bitcoin 4 miliardi di dollari più o meno e questo è un flusso abbastanza notevole ovviamente perché sento molti dire che è un fa sono stati un fallimento non sono stati un fallimento ovviamente richiede tempo adesso vedere quello che che sarà il risultato di frutti di questi etf nel tempo però un fallimento non sono stati perché hanno superato anche l'argento ibit e di blackrock e fidelity hanno guidato il gruppo sostanzialmente con quelli che si stanno accaparrando più bitcoin di tutti gli altri abbiamo notevoli afflussi di capitali nei nuovi tf bitcoin appena lanciati che hanno superato le uscite del gris che il bitcoin trust che ha visto 2.8 miliardi di dollari nello stesso periodo quindi per questo si creano un po delle dispute tra gli analisti perché molti dicono simono possiamo colpare solo gbtc perché comunque i fondi sono rientrati però ovviamente la confusione è tanta confusione tanta investitori stanno osservando due eventi importanti ovviamente l'alving il quarto alving l'approvazione tf di ethereum il secondo quello di ethereum sarà un po più lunga la storia mentre l'alving è certo quello di ethereum non lo è dobbiamo vedere come la prenderà la sec eccetera abbiamo le monete appena lanciate che hondo manta miro e sarso che stanno andando bene da un bel po di tempo a questa parte dobbiamo osservare intelligenza artificiale quindi rndr fat gb gpt e rose a causa del prossimo punto storico massimo di nvidia e lancio di apple vision pro e anche quelle cinesi perché siamo correlati al capodanno cinese quindi attenzione anche a questo capodanno cinese se ne sentirà parlare il prezzo scende per il capodanno cinese perché devono mettere soldi nelle buste allora devono vendere i profit e queste cose qua ma si sente sempre tutti gli anni dal 2016 che sento questa cosa che ogni volta anzi una volta quando prezzo bitcoin scendeva è colpa del capodanno cinese mi ricordo benissimo che funzionava così gli investitori generalmente investono prima nell'alving causando un enorme impendato dei prezzi l'alving è più un evento mediatico ormai perché poi è abbastanza apprezzato anche però far parlare di sé molto cnbc e queste queste questi programmi qui nuovo grazie è lui che ha avuto un po di dispute perché dice che secondo lui andrà tutto bene quindi vedremo le tf prosperare eccetera eccetera mentre qualcun altro dice che gbt si sta dampando il tweet in ca in questione questo qui che praticamente vedete che c'è chris j terry che dice il prezzo continuerà a andare piatto fino a che gbt si non sarà liquidato 25 miliardi di dollari di vendita nelle prossime settimane la decisione di cresca e di mantenere le fisa 1 e 5 scenderà con il più grande errore strategico nella storia dell'etf e novakles dice non sono d'accordo mentre penso che la gente venderà gbt si penso che la maggior parte passerà ad altri etf bt si è il mio preferito non perdiamoci nella foresta attraverso gli alberi sarà molto più facile per i boomer comprare mais e ora poi tenere una leva finanziaria 45 volte su questa esposizione bitcoin e quindi secondo lui entro sei mesi vedremo livelli più alti grayscale nel frattempo ha venduto 60.000 bitcoin quindi capite ne sono entrati 95 ne ha venduti 60 e così via quindi c'è un po di casotto qui tra il 7 e il 21 gennaio i bitcoin sugli exchange sono saliti dal 534 al 540 per cento c'è l'aumento dell'offerta sugli exchange generalmente considerato come fattore che spinge il prezzo a ribasso ovviamente grayscale sta facendo scendere i prezzi spiegando che mentre grayscale ha venduto i 60.000 bitcoin gli altri emittenti ne hanno accumulati altrettanti e qui vediamo un po dati on chain che abbiamo tra l'altro abbiamo anche il fronte dei derivati su cui le cose non sono molto favorevoli per bitcoin al momento perché il rapporto tra acquisti e vendite degli acquidenti era rimasto in rosso il network value transaction ratio tra l'altro qui il nft ratio sta salendo ma abbiamo anche i funding rate che però nonostante siano precipitati ultimamente come vedete qui sono comunque rimasti positivi quindi per quanto siano scesi i funding rate sono rimasti positivi e questo non è poi così negativo generalmente mercati asiatici sono saliti per via del giappone tranne cina e hong kong per il resto dove è tranne cina per il resto comunque c'è della positività tra questo ai chip e earnings che sono andati abbastanza bene generalmente abbiamo anche tesla netflix lockhead martin e molti altri quindi vedremo un po come si metterà comunque il mercato azionale sta andando relativamente bene abbiamo le date per il prossimo bitcoin asia che sono il 9 al 10 maggio e vedremo un po se si riuscirà ad andarci oppure no quanto costerà cosa succederà vedremo ma interessante abbiamo anche qui grayscale che ha fatto la nuova pubblicità come vedete qui e questa è la sua nuova pubblicità che sta mettendo quindi vedete che iniziamo a vedere un po anche adesso probabilmente super bowl vedremo delle pubblicità almeno una pubblicità di tf secondo me la vedremo al super bowl e poi niente se volete seguire il mio profilo lo trovate su marco gallazzi seguite tutto il resto se volete anche acquistare il mio libro quindi ragazzi questa più o meno è la situazione di oggi nel senso che fino a che non si schiariranno le acque qui e fino a che non capiremo dove sarà il bottom temporaneo di bitcoin e dove effettivamente gli air coins riusciranno a riagganciarsi qui alla dominanza sarà difficile prevedere qual è il punto preciso però sul settimanale e quello che vi consiglio di osservare settimanale e osservare la 12 ema perché potrebbe essere uno dei punti più interessanti di questa settimana 12 ema settimanale di bitcoin io non aggiungo altro spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto ricordate di iscrivervi al canale come sempre lasciateci dei commenti e ci vediamo al prossimo appuntamento di domani ciao a tutti